eccoci in diretto in questa gara in notturna fra i galacticos e i ragazzi di barbareschi lo scontro che si preannuncia scoppiettante fra due ottimi compagini vedremo chi avrà meglio barbareschi occhio contro piede posso andare due contro due il tiro sarti si oppone zona tiro la traversa clamorosa il tiro calcio d'angolo e di prima colpisce non c'entra di poco lo specchio attenzione il destro chiude troppo buona occasione per il vantaggio il quarti campo fa la verde occhi a ripartenza 3 contro 2 ma centralmente la discesa riesce a trovare un compagno poi il passaggio sulla destra tiro la rete il gol che finalmente sblocca il match 1 a 0 dei galacticos destro il palo colpito vicinissimi al 2 a 0 subito gli uomini maia bianca caccio di punizione il destro in trivela in avanti attenzione c'è maiorano lo stop di petto e tirato sopra la traversa gioca perché la prima frazione di gioco parziale sull'uno a zero a favore dei galacticos si riparte ancora 1 a 0 il parziale una partita molto agguerrita fra due squadre entrambe ottime candidate alla vittoria di questo incontro risultato ancora in billico vedremo chi avrà la meglio la traiettoria la vedi l'aspetto questa nuova reazione il paloso a destra dentro barbareschi il secondo palo c'è mai orano in baker la parata di mesi d'angolo forte sul primo palo non arriva di reazione decisiva sale belliccio va a piede nessuno attacca la c'è corridoio per majorano majorano pressato se ne va majorano la rete corridoio perfetto il gol del pareggio forse meritato l'emini maia nera poi da contropiede attenzione prova andare lui mezzo a due calcia sfiera soltanto il palo sono a tiro lo scarico rientra attenzione il destro la rete di nuovo il vantaggio dei galacticos il gol del 2 a 1 com'è il cognome in avanti passeva dal piede attenzione sono a tiro che parata salva dal piede attenzione la professione manabe al vento due avversari e poi anche il partiere incredibile che gol una cavalcata sensazionale fate quello che volete attenzione sarà in progressione centralmente cerca poi sulla destra non lo serve ancora di silvestro e poi dentro belliccio sono a tiro belliccio lo prova la deviazione non arriva la rete finisce così con il risultato finale di 3 a 1 a questa gara grazie 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 grazie